Dopo due intensi giorni di lavori del Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di previsione 2023 pluriennale 23-25. Grande attenzione rivolta a temi dedicati alla salute, al sociale, all'economia delle famiglie, formazione e lavoro. Importanti manovre volte inoltre a calmirare le difficoltà delle persone affette da disabilità e degli studenti in particolar modo. Grande la soddisfazione espressa dai consiglieri della BAT per alcuni degli emendamenti approvati. Per il capogruppo del PD, Filippo Caracciolo, molti di questi traducono in atti concreti l'attenzione ai bisogni delle cittadine e dei cittadini pugliesi, come quello rivolto a tutelare la qualità della gravidanza delle partorienti, in particolar modo di quelle con condizioni di rischio di salute, per il nascituro grazie a un contributo per l'erogazione di NIPT, test come screening neonatale per le trisomie 13, 18 e 21, un atto di civiltà e anche il sostegno assicurato anche alle famiglie che si avvalgono del metodo ABBA, quale trattamento riabilitativo presso i centri specializzati nella cura del disturbo dell'autismo. E sempre in tema autismo, il consigliere regionale di Conemiliano, Giuseppe Tuputi, a vedere approvato l'emendamento da lui stesso proposto di un fondo di 5 milioni di euro per sostenere le terapie necessarie per le persone affette da disturbi dello spettro autistico e per l'assegnazione poi di una somma di 300 mila euro al fine di favorire la socializzazione e l'integrazione degli studenti disabili con la comunità scolastica e locale, agevolando la loro partecipazione alle opportunità culturali, sportive e artistiche e forme di autonomia, inclusione e imprenditoria sociale. Il consiglio regionale ha quindi approvato anche le voci relative all'attivazione di corsi BLSD nelle scuole, ovvero le manovre salvavita di primo soccorso con l'impiego di defibrillatore per gli studenti pugliesi dei 16 anni in su e in tema ambientale via libera l'assegnazione di 400 mila euro per andare incontro a quei territori in cui si manifestano emissioni d'origine, moleste olfattive e la batte barletta sono interessate in particolar modo. Ha approvato inoltre l'incentivo una tantum pari a 4.700 euro per ogni assunzione effettuata a seguito della procedura di stabilizzazione da parte dei comuni pugliesi dei lavoratori socialmente utili. E seppur con il parere contrario del Governo regionale, ha approvato a maggioranza l'emendamento presentato dai colleghi Francesco Ventoli e Giuseppe Tuputi per l'istituzione della Sesta Centrale Operativa 118 con sede nel territorio di competenza dell'ASLBT, come già prevista dall'articolo 27 della legge regionale nel dicembre 2020. Questa volta, evidenza il consigliere Ventola, non ci sono più scuse o stop. Si rispetti la volontà del Consiglio che ha approvato a maggioranza l'emendamento.